bene ragazzi qua memo benvenuti in questo nuovo episodio del road to division one su fifa 14 oggi siamo direttamente alla 9 perchè ho fatto un po' di partite un po' di squadre ora vi faccio vedere quello che ho cambiato e quello che ho messo e quello che ho tolto comunque bando alle ciance volevo ricordarvi che io e jules saremmo al romix il sabato e la domenica non so che giorno comunque sabato domenica giovedì e venerdì ci saranno i drogati a fassile canna fassile pere la quindi non ci vado se ci andate voi sarete drogati questo non lo so comunque ci vediamo sabato e domenica romix penso sia il 5 e il 6 credo comunque si bando alle ciance andiamo al video eccoci qua tornati la rosa io ho regalato ragazzi ho regalato a sarda a sarda a sarda a sarda jules perchè è nascito uno al pacchetto quindi ho regalato a sarda abbiamo messo il cicerito nascito davanti bene al farla johnson cabullo un armero un sandro c'è il capitano ambrosini poi guardate che vi faccio vedere vediamo se lo ritrovo non c'è scapuzzi non c'è scapuzzi devono assolutamente voglio scapuzzi in panchina perché secondo troveremo entrare quando la partita si farà dura un vento infortunato ma è scarso non c'è scapuzzi non mi dico che l'ho scartato perché davvero io me lo ricompro ragazzi se me lo ricompro scapuzzi eccolo qua bomberissimo scapuzzi e niente raga proviamo a cercare proviamo proviamo a giocare vediamo un po ma che cazzo fai a sarda ma porca di quella madosca addolorata o hernandez e cicerito attenzione fuori tanto così raga tanto così non è un picello è tanto così mi so cagato sotto raga vado a cambiare il mutante e torno oh raga sandro sandrone sandrone incredibile ehi e vaffanculo vai i mortacci tu al mondo stai se ecco devi rimanere se sotto un cotral un cotral ti deve passare sopra un cotral oh no no che sta succedendo mamma mia raga cazzone redscott ma che stai a fa' che stai 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 fa' questo è bucio di culo vede il compagno che si sta facendo una sega attenzione ma raga gofran è un fenomeno raga gofran è un fenomeno non è vero e vabbè ma che cazzo vuoi fai io dico che cazzo vuoi fai questo io vorrei capire come cazzo ti chiami o stai fatto di cocaina quando hai messo il nome o stai ubriaco perché sennò davvero raga vedi come quando mettete sti nomi ma che cazzo vuoi fai per la capoccia io davvero non c'ho raga non c'ho idea questa è la cattiveria fatta da un culo però armero si sta a fare le seghe col tuo bel pisellone gofran occhio ci prova raga ci proviamo non è vero che è fuori gioco fuori gioco mi piace inserirsi nelle palle dei difensori armero la dice lunga molto 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 lunga ragazzi molto 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 lunga oh c'è incredibile ambrosini lui proprio lui eccezionale proprio lui ambrosini no no ok c'è il rigore lo ammetto sono sportivo lo ammetto stai che stai a fa cos'era lo scempio vieni qua fattelo ficcare in culo e non urlare e non godere stai zitto ma che stai a fa Gesù ma su attenzione il numero numero impressionante poi vabbè c'ha a fine la benzina gli serve i bandito al culo ma su occhialo lukaku fai schifo sei una merda è partito e quando ci arrivi in porta con Fran si mamma mia vai Sandrone vai Sandrone si vabbè merda strozzo 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 sì c'ho io sì c'ho io sì sei tu strozzo bene ragazzi eccoci con il secondo con la seconda partita lagga bestia ragga spaccati proprio a merda guarda 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 un bordello oh 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 no no non ci ho creduto ragga non ci ho creduto va bene va bene va bene così no what's this what's this what's this hey man hey man you met bro you met bro you met bro hey you met bro why you met bro fuck suck my dick cazzo ma stiamo a lavorare qui cazzo ma che mollo ma che mollo cazzo non mollo niente non vogliamo niente cazzo cazzo ho preso un'altra cazzo you met bro bellissimo dai dai come on come on come on come on come on come on no ma presa sicura che su sto par dei coglioni stop tienila tienila bravo stop di merda ma non fa niente occhio che segna il capitano occhio che segna che mamma mia che schifo da pure devi da capocetta peraltro ragazzi secondo tempo metto scapuzzi ragazzi secondo tempo metto scapuzzi ragazzi secondo tempo lo metto secondo tempo lo metto lo giuro ragazzi al secondo tempo mettiamo Scapuzzi in posto di Guffrano raga va a casa al secondo tempo entra il bomber nel cuore di tutti va a casa al secondo tempo entra Scapuzzi entra Scapuzzi entra entra Roberto, non lo so come si chiama però entra Slu, Scapuzzi eh, una secca carina, una secca stai zitto e commenta aaca 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 Scapuzzi assarda asarda, asarda, thiaderina la sarda di regina non è possibile niente oh scavuzzi scavuzzi è un bomber scavuzzi è impressionante scavuzzi scavuzzi signori sono scavuzzi impressionante non è sarda non è suare è solo scavuzzi signori è scavuzzi che bomber ragazzi che bomber la sblocca lui scavuzzi è l'uomo del... compratelo raga comprate scavuzzi vada arrosicato 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 e facciamo fare la doppietta al piccolo scavuzzi non è vero scavuzzi 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 i love you video sul cd ricordo che sicuramente io e jules saremo a romix il 5 il 6 aprile ovvero sabato e domenica detto questo condividete il video iscrivetevi al canale lasciate un like commentate fatemi una sega piccata velo nel culo bella